Noi rispetto alla comunicazione del lato che ha fatto 6 e 8, noi già abbiamo decurtato quel 20% del disservizio del lato, infatti la posta messa in bilancio non è quella comunicata dal lato ma quella di 5 e 5, quindi automaticamente già noi a monte avevamo diminuito questo importo, quindi già noi eravamo venuti incontro ai contribuenti perché questa era la situazione che il lato aveva creato e continua a creare. Quindi questo è l'aspetto fondamentale, alcuni non sanno perché sono convinti che il costo che il lato ha è 5 e mezzo ma non è così. Noi abbiamo denunciato spesso questo eccessivo costo per i disservizi che ci sono perché questo è dovuto ai disservizi che ci sono e che doveva essere riportato nelle formule e nei modi adeguati. Fino a quando non si definisce questo percorso di passaggio ai comuni questo costo continuerà a lievitare, per questo abbiamo chiesto con forza di bloccare questo percorso perverso e di darci la possibilità con un intervento normativo da parte della Regione di pre-annunciare un discorso dell'Aro con il pre-Aro e con un bando che noi, nell'emore della definizione dell'Avono, i comuni possono andare con le proprie gambe nella gestione del servizio. Grazie.